stamattina come ho visto la prima pagina da un lato della gazzetta interista dello sport e dall'altra del qs il quotidiano sportivo già sono stato 5 minuti a ridere perché mi è venuto in mente tutto ciò di cui ho parlato in tutto questo tempo soprattutto nell'ultimo anno allora ve l'ho lasciato in copertina lo vedete nella copertina di stamattina perché davvero è qualcosa di un misto tra zelig colorado caffè cabarello stato puro la gazzetta interista dello sport stamattina vedi un'immagine d'antiquariato di zang che sembra più un AI no? intelligenza artificiale via libera di zang Lautaro e Varella rinnovano vi ricompro accordo vicino con il fondo Oc3 così l'Inter accerla sulle firme dei due big cambi pagina vai sulla pagina del qs quotidiano sportivo festa inter manca zang e dunque dov'è zang? per lo meno per lo meno il qs da una parvenza di verità no? manca zang non fanno la domanda che io dico da agosto dello scorso anno cioè siamo agosto settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo otto mesi che non si vede il presidente dell'Inter nessuno ha fatto ancora questa domanda dov'è zang? cioè in nessuna prima pagina però il qs si sta avvicinando festa inter però manca zang mentre la gazzetta intervista dello sport che vive nel mondo di Balubaluba il mondo fantastico di Narnia di Pandora dove tutto è bello, speciale però non ha niente a che vedere con la realtà vi ricompro cioè Lautaro e Varella rinnovano via libra di zang ma via libera da dove? ma lui è libero soprattutto in ogni caso ragazzi io ringrazio coloro che ieri hanno partecipato a una bellissima live sul canale di DNA Rosso Nero TV diverse posizioni tra di noi c'è i pro pioli i pioli out piuttosto che i pro società e altri che sono più critici però a mio avviso è stato un confronto davvero molto interessante dove ringrazio nuovamente Mim ovviamente di DNA Rosso Nero TV Giovanni Gardini c'era ormai conosciutissimo perché lunedì è qua al processo il bandito Rosso Nero Stefano c'era Joe il Benzinero c'era Luca Zed è stato un confronto secondo me molto interessante c'era Marco di ACMA Style non mi voglio dimenticare di nessuno è stato un confronto che prossimamente si ripeterà perché credo che dobbiamo essere prima di tutto noi youtuber perché tanti di voi seguono uno o l'altro canale dobbiamo essere l'esempio anche di compattezza nel milanismo al di là delle differenze anche del modo di interpretare il tifo a volte io sono stato anche tacciato di dittatore e probabilmente in certi momenti sono stato un po' duro per dare la linea del canale la linea del canale è molto chiara però è anch'essi vero che poi bisogna aprirsi anche al nuovi scenari bisogna aprirsi al confronto al dialogo e quanto più il dialogo è costruttivo tanto più si possono ricavare delle cose positive da ambo le parti quindi ognuno nell'ascolto attivo può imparare delle cose diverse dall'altro quindi io ringrazio sinceramente tutti i colleghi che ieri sera sono stati presenti così come ringrazio tutti coloro che hanno deciso anche di seguirmi sull'altro canale Tribuna e il Pallone perché proprio ieri attraverso un articolo del direttore di Calcio e Finanza ho potuto analizzare facendo proprio un check una radiografia della situazione dell'Inter societaria punto per punto in maniera molto neutrale che non ha niente a che vedere come se l'avessi fatto qua su questo canale quindi ringrazio a tutti coloro che si sono iscritti anche di là ringrazio tutti i nuovi le nuove che si sono iscritte qua nella tribù rossonera tutti coloro che anche partecipano attraverso gli abbonamenti donazioni veramente siete dei grandi dei giganti e grazie a tutti coloro che sempre mettono un bel like però tolta la prima parte dove ci facciamo due risate perché ovviamente non possiamo prendere seriamente la gazzetta dai la gazzetta una volta era realmente un'entità suprema nel mondo dello sport e quando eravamo almeno quando io ero giovane non c'era in i social si andava al bar caffè brioche e gazzetta era questo ma adesso cioè ma non va bene manco per pulirsi di dietro è un giornale veramente che è caduto di livello e di qualità soprattutto in maniera spaventosa penso che il vernacoliere di Livorno è molto più interessante almeno quello sai che fa ridere quella è la linea però la gazzetta non è già non è né carne né pesce dunque festa intermanca zang però ovviamente devo mettere di lato milan megnante o calabria contratti spinosi allora cosa è uscita fuori è uscita fuori questa notizia clamorosa di un blitz di moncada a monaco in baviera in germania e dunque scenario clamoroso questa notizia la riporta carlo pellegatti dal suo canale di youtube allora che cosa dice dice non voglio pensare che stessero parlando di teo hernandez o di mike mignon perché cioè se li vogliono devono venire loro a bussare alla porta del milan ma il retroscena riguarderebbe proprio zirk zi l'attaccante del bologna potrebbe essere questo lo scenario si va per ipotesi ovviamente si va lì non si sa realmente nelle stanze chiuse di cosa parlino però è stata riportata questa presenza di moncada in terra di germania e dunque pelegatti ovviamente poi si fa prendere dall'entusiasmo con immaginatevi come si divertirebbero lì davanti pulisic da oggi lo chiamo pulisic perché il nome proviene da lì e finisce come i savicevic piuttosto che gli stoicovic cioè pulisic è un'americanata e quindi all'origine pulisic anche se poi tanti potrebbero dire beh perché quelli francese allora platini dovevi chiamarlo platini vabbè in teoria sarebbe così però dobbiamo sempre trasformare parole quindi pulisic quindi pulisic poi se sbaglio ogni tanto dico pulisic è colpa delle reminiscenze di questa cosa che si è stata messa in testa in quest'ultimo anno comunque immaginatevi pulisic zirk zi e le auli davanti dice il nove che fu di van basten cioè già sta sognando io già immagino gli starà per affibbiare un nome però io ovviamente vado un po' con i piedi di piombo perché sappiamo benissimo che oggi 5 di aprile intanto non ho detto ragazzi è vero tribù rossonera tribù di gente vera buongiorno e buon 5 di aprile a tutti e a tutti è bentornata è bentornato qui sul canale marietto milanista cioè agli 7 minuti è venuta in mente sta roba però vabbè oggi 5 di aprile io voi sapete che sono restio alle notizie di mercato bomba di qua rivelazione di là cioè io l'unica cosa che riporto notizie reali che possono essere comprovate poi nel web e tutto qua io non me le invento le cose perché non è che c'è l'amico dell'amico del il portinaio che mi ha dato la soffiata il parcheggiatore cioè il conserge no diciamo se dobbiamo dare una credibilità noi youtuber a differenza di giornalisti che sono dei venduti perché pur di vendere venderebbero pure sua madre pur di vendere notizie false e 9 su 10 normalmente sono false a parte qualche giornalista sportivo come può essere Nicolò Schira Longo Fabrizio Romano ci sono anche giornalisti secondo me competenti che vanno ma gli altri che fanno parte di queste testate giornalistiche sono dei venduti cioè fondamentalmente devono vendono aria fritta per vendere ma poi fondamentalmente di verità ce n'è poche quindi vabbè Carletto Pelegatti ha questo suo sogno io l'ho parlato anche ieri in live sinceramente Zirk Zee sì per il discorso che già conosce l'impatto del campionato italiano e quindi anche l'inserimento dovrebbe essere molto più rapido ma anche no perché perché una cosa è giocare nel Bologna e far bene nel Bologna con un allenatore che ha un certo tipo di gioco è una cosa che poi magari viene al Milan e il mio dubbio è questo come era successo con Charles De Quetelar vi ricordate De Quetelar era stato acquistato come il miglior acquisto della scorsa campagna acquista e si è rivelato un grande bidone un grande flop veniva dal Bruges quindi la dimensione era quella nell'Atalanta ha ritrovato una dimensione simile al Bruges giocare nel Milan è un'altra cosa quindi non dico di no a priori però cioè se tu mi fai una proposta tipo Mauro Icardi che già ha un'esperienza internazionale anche internazionale dell'Inter ha un suo pedigridi attaccante già di un certo tipo comunque è anche un attaccante di un'età matura sui 30 anni e c'è quello stimolo come successe con Ronaldo quando venne al Milan segnò sotto la curva nord dell'Inter sono quelle gioie che ti può dare anche diciamo da un punto di vista sportivo io preferirei a questo punto Maurito Icardi perché per esperienza però e qua passiamo all'altro discorso era sempre tutto riferito a Camarda ieri sera ne parlavo ne parlavamo anche in live di questa situazione di Francesco Camarga che ancora vogliono insistere i giornali pericolo su Camarda che ci sono c'è mezza Europa che lo vuole c'è l'Inter che potrebbe fare lo sgambetto c'è il Bayern Monaco adesso appunto anche quello c'è il Bayern Monaco oltre Mignan e Teo poi chi c'era il Manchester City il Chelsea tutti tutti vogliono Camarda però la strategia del Milan è quella di aspettare il primo di luglio per fargli fare un contratto poi fino al 2027 perché se lo facesse adesso può farlo solo fino al 2026 quindi il Milan se lo assicurerebbe da adesso primo luglio 2024 fino al 30 giugno 2027 quindi è lì che stanno lavorando per quanto dicano che c'è distanza tra domanda offerta e tutto quanto io penso che sono cose che non può sapere nessuno se non direttamente la gente di Camarda Moncada Furlani e tutto quanto ma io non cioè se il Milan si fa scappare un giocatore del genere allora lì sì che potrei anche incazzarmi perché Camarda io sono una persona che è molto ponderata con la società se c'è da dire cose le dico anche contro ma farsi perre Camarda con me vedi qua il diavolo a 4 veramente perché Camarda è il futuro non solo del Milan ma anche della nazionale italiana che è scarna di attaccanti cioè Camarda è un giocatore che a mio avviso e qua arriviamo poi anche all'altra bellissima notizia perché sembra che il Milan ormai ci siamo per la seconda squadra e ad allenarla addirittura ci sarà una vecchia conoscenza del Milan che è collaboratore di Stefano Pioli e stiamo parlando di Daniele Bonera e sta andando tutta nella direzione di creare questa seconda squadra come è riportato anche da Relevo dal giornalista Matteo Moretto che appunto il Milan sta completando gli ultimi passaggi proprio per definire il 100% questo progetto quindi di partecipazione alla Serie C con l'Under 23 e già si sta individuando anche nello stadio Breda di Sesto San Giovanni lo stadio dove il Milan potrebbe giocare le partite casalinghe quindi il Milan sta portando avanti diverse cose interessanti così come il discorso dello stadio la seconda squadra però per far questo ci vuole anche che certi giocatori come è stato rinnovato sia come c'è Zeroli come ci sono i Bartesaghi gli Scotti ci sono giocatori molto interessanti nella primavera del Milan che li dobbiamo tenere in blocco per portarli nell'Under 23 quindi giocare in Serie C quindi non si perderebbero per il cammino lo sapete bene tanti giocatori poi li dà in prestito un anno due anni ma al Milan non tornano più e si perdono invece tenerli alla base e sott'occhio secondo me può essere un gran upgrade come già succede da tanti anni qui in Spagna con il Barça B il Real Madrid B tutte queste squadre pensate che dal Barça B sono usciti fuori i Messi gli Iniesta gli Xavi Hernandez i Piquet i Puyol i come si chiama Vittor Valdez che era un grandissimo portiere cioè Pedro tutti gioca Busquet tutti sono arrivati dal filiale quindi se noi lavorassimo questo bisogna guardare anche nelle società vincenti bisogna vedere che il settore giovanile può diventare veramente un serbatoio per la prima squadra per anche abbassare dei costi che sarebbero quelli di andarsi a cercare un giocatore dall'altra parte quando i campioni te li puoi creare in casa capito e Camarda una di due ci sono due possibilità che io darei una dare la possibilità che già ho detto in altre occasioni con la squadra confermata l'Under 23 si faccia un anno di serie C che ci sta lui ha 16 anni quindi fino ai 17 anni quindi arriverebbe a 17 anni che già si è fatto un campionato strutturato come la serie C per poi in automatico passarlo in prima squadra o alternativa come già è successo Yamal qua in Barcellona a 16 anni o altri giocatori lo stesso Paolo Maldini a 15 anni era già titolare del Milan avere il coraggio di portarlo direttamente in prima squadra ma affiancato da un centravanti che già abbia una certa esperienza sappiamo benissimo che Giroud se ne andrà ai Los Angeles FC ormai sembra cosa fatta Jovic potrebbe rimanere come attaccante di riserva per me va anche bene però ci vuole un 9 di quelli belli pesanti Mauro Riccardi potrebbe essere una soluzione importante se c'è anche Camarda perché Camarda potrebbe anche stare appresso a uno sgamato perché fondamentalmente Riccardi è un attaccante sgamato lì davanti vediamo vediamo quello che succede io comunque ho serenità da questo punto di vista perché io non credo che il Milan dopo quello che era successo anche con Donnarumma qualche anno fa faccia un errore del genere per quanto poi avete visto che non tutti i mali vengono per nuocere così come la vendita di Tonali lo scorso anno che poi si è rivelato una fortuna perché se no tenerelo in casa sarebbe stato un pacco piuttosto che Donnarumma è andato via lui è arrivato Magic Mike Mignon quindi bisogna sempre avere una visione molto positiva delle cose che è quello che io cerco anche in un modo o nell'altro a volte non sempre così ortodosso o non sempre così sereno la positività cioè cercare di guardare in positivo quello che abbiamo così come guardare in positivo il fatto che il Milan è allenato da un serio professionista come Stefano Pioli che io già lo dico lo ripeto anche per i nuovi lo cambierei solo per tre allenatori Klopp Guardiola o Ancelotti il resto non mi interessa e continuerei fino a quando lui vuole nel Milan perché lui in mano la situazione ce l'ha con l'appoggio di Ibra a fianco è un mix perfetto detto questo ragazzi grazie per i like grazie per le nuove iscrizioni grazie ai vecchi che continuano a seguirmi grazie abbonamenti grazie donazioni grazie per la vostra partecipazione e il supporto che mi avete dato ieri nella bella live appunto su DNA Rosso Nero TV noi ci rivediamo non so se oggi o domani c'è la conferenza stampa di Pioli vediamo un attimo oggi vediamo un po' in giornata perché avevo anche una mezza idea di fare un video anche sull'altro canale della Tribuna e il Pallone su una situazione pesante che sta vivendo anche Gerard Pichet per quello che vi commentavo della vendita della Supercoppa spagnola ai paesi arabi quindi vediamo un po' come va la cosa ok ti auguro un felice venerdì un bacio all'amico un forte abbraccio a tutti gli amici sempre Forza Milan ovunque e comunque e buon venerdì mi raccomando come sempre fa bala luce ciao